Consigliere, di questi giorni una sua interrogazione è tra gli aspetti più rilevanti, troviamo quello delle bonifiche. Le bonifiche, io ho fatto un'interperlanza in base al regolamento al Presidente del Consiglio da inoltare al Signor Sindaco, perché leggendo le carte e leggendo un po' le notizie giornalistiche ci sono state qualche dubbio se lo levate chi deve fare le bonifiche a Gela. Io non parlo solo delle bonifiche Eni, Traffineria, ma di tutte le bonifiche sul territorio. Per me le bonifiche vanno fatte chi inquina paga, perché tra le carte che sto leggendo mi sorge qualche dubbio e quindi voglio che me lo carisca il Sindaco in aula, voglio sapere se queste bonifiche vengono fatte dall'ente che ha provocato il danno o dall'impresa che ha provocato il danno e quindi avremo una stabilità nel lavoro da parte dei lavoratori. Leggendo le carte mi sorge qualche dubbio che avremo l'affidamento diretto alle ditte che chiedono di avere queste aree e quindi andranno a bonificare le ditte terze, non chi ha inquinato. Quindi questo dubbio chiedo al Signor Sindaco che venga chiarito nell'interesse dei cittadini. Quindi ripeto e lo voglio ripetere, non è una ripetizione fatta perché mi voglio, è una ripetizione fatta volutamente. Ai cittadini il messaggio che voglio lanciare, che voglio sapere chi fa le bonifiche. Se le bonifiche le fa chi ha inquinato assicuriamo un lavoro stabile e duraturo. Se le bonifiche le fanno altre ditte che si inseriano senza che l'aria l'ha bonificato chi ha inquinato, mi sorge qualche dubbio nel tempo e nelle procedure lavorative. Consigliere, sostanzialmente l'obiettivo di questa sua conoscenza, che appunto chiede dei chiarimenti, sarebbe quello della stabilizzazione degli operai che si innesta poi in una crisi occupazionale davvero molto grave che sta vivendo questa città ormai da un po' di tempo? Sta vivendo una situazione, dire grave, e poco. Una situazione gravissima. Fare una passeggiata in piazza sta diventando quasi impossibile perché la gente non sa come vivere e come arrivare a fine giornata, non a fine mese o più. Quindi io chiedo di sapere sulle bonifiche chiarezza, voglio chiarezza, da parte dell'amministrazione comunale che è l'ente che rappresenta i cittadini. Secondo lei l'attività relativa alle bonifiche potrebbe rappresentare una nuova speranza di lavoro per questa città? È una percentuale che sicuramente permetterà di immettere sul lavoro le nostre maestranze locale senza bisogno di fare bandi un po' particolari perché una ditta potrebbe partecipare, quello che capisco perché può essere il sindaco che mi chiarisce diversamente, quello che leggo dalle carte. Quindi io chi inquina paga, se lo fa Leni è un conto, se lo fa l'altra ditta è un conto, se liberiamo tutti, liberi tutti, non è possibile.